Il sindaco di Torino, Piero Fassino, in un'intervista rubata dal blogger Piero Ricca, che si è finto un militante democratico, spiega il perché del no al voto su Stefano Rodotà. La marchiatura di Grillo ha dato un significato molto antipolitico alla candidatura di Stefano Rodotà. Poi si scaglia contro i militanti. Hanno esagerato. Perché quella levata di scudi contro Marini? E aggiunge su Napolitano. Non è mica stupido. Non stare mica lì sette anni. Il tempo di fare un governo, perché ormai la gente ci tira le pietre. Napolitano ci dà il tempo di ricostruire il PD, poi magari si creeranno le condizioni per fare Rodotà presidente.